professoressa carrozza che cosa significa internet oggi e quindi internet festival che cosa rappresenta ma rappresenta un'occasione per fare il punto sulle infrastrutture tecnologiche sull'utilizzo di internet e anche da un punto di vista culturale capire le varie implicazioni nei vari settori tra cui la social innovation i settori di robotica di biorobotica di cui mi occupo personalmente quindi io ritengo che sia un'occasione importante penso che ormai non possiamo farne a meno e dobbiamo anche potenziare le nostre infrastrutture qui a pisa abbiamo un progetto di potenziamento e anche di allargamento delle utenze delle utenze di rete e rendere questa una piazza aperta a tutti per la libera discussione per anche il progresso e l'elaborazione culturale e democratica abbiamo visto che internet è un mezzo importante abbiamo sentito anche che una campagna della regione toscana internet bene comune e in questo senso dobbiamo dimostrare come utilizziamo questo bene comune lo rendiamo disponibile a tutti in primis agli studenti e ricercatori di pisa